Musica Ragazzi ben ritrovati sul canale Oggi siamo qua perchè voglio cominciare per la primissima volta Battlefield 4 Non l'ho mai provato, non chiedetemi il perchè, per come, non l'ho mai provato Voglio iniziarlo adesso Da poco ho finito Call of Duty Vanguard Mi è piaciuto, però voglio provare Battlefield 4 Perchè mi hanno detto che è un'esperienza di gioco molto più realistica, molto più bella Quindi ragazzi, vediamo, riprendiamo subito, proprio inizio del gioco Vediamo subito cosa succede, in che situazione ci troviamo Oh, ci... dove siamo? Ai, ai, ai Abbiamo... malissimo Abbiamo iniziato malissimo Ok, non so assolutamente niente, come mai siamo qua, come mai ho già un'arma in mano Niente, però la grafica già dall'inizio è una cosa stratosferica, bellissima C'è qualcuno? C'è qualcuno? Salve Salve, non voglio che mi spunta fuori qualcuno Aspetta, 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 aspetta Apriamo Salve Salve People Buonasera Che cazzo sono questi? Devo spararli o no? No, non spariamo, non facciamo cazzate Wow Oh C'è qualcuno? C'è gente lì, eh C'è gente lì, eh Ok Boom Ok Ok Prendiamo Va bene, ok Mi ha caricato l'arma Dove, dove, dove Perché, ah ecco Muori, bastardo Vieni qua Faccia da cazzo Pam Colpo la testa Stronzo Stronzo Basta qua Eh Vaffanculo Ah Morite, bastardi Ok Fantastico Morto Morto Dai Coglione Vieni su anche te Ci star lì Eh Spettila Anche te No Ma dai Non ci avrei Non ci avrei mai pensato Siamo in un cazzo di posto che, non so Outlast Levati Il pacchetto di cocaina Ce l'abbiamo noi Scappiamo Non so dove sto andando ma Oh Pa Pa Cazzo successo Ingaggiare Ok, non mi interessa Ma Cazzo di Ucraino Mori Dove 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 Cazzo di pam dove cazzo sono sti e crepa ah ma stronzo però l'ho ucciso eh ho fatto tipo un attentato kamikaze però l'ho ucciso però sono matto ti devo dire vi devo dire ma ma vabbè ma dai ho fatto l'attentato kamikaze e fammi passare una cristo di volta a Cristo Muori anche tempo Perché mi sparano no no sbagliato sbagliato Morite tutti quanti guarda guarda il pezzo di merda Ma ci avrai la mamma puttana Eh ottima mira figa ho beccato le grondaie e becco Dov'è? Muori Oh Che qua sono russi bastardi Muori 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 Che cazzo sono sti qua Nooo madonna perché No 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 Ma che cazzo faccio anch'io sono handicappato Ho finito le munizioni Penso proprio di sì quindi facciamo così Muori 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 Taglio la gola Perfetto Ma allora io non so come si prendono le armi qua Ci sono le armi che si possono prendere No Non schiaccio più un cazzo io qua Ah ok sì sì era il triangolo per cambiare arma Perfetto Che bel posto complimenti Cazzo di tossicito Ok cosa è questo? Eh Dei pochi di gai contengono dei gadget Sì va bene ok Cos'è sta roba? Boh Selezione va bene Maggi 2 Ok Finito Non so che cosa fa Wow Figa E vai col botto Guarda che cazzo ci fai qua Ah devo abbattere il muro Perfetto Figa io sono Tarzan Re delle scimmie BAM Figa gabbiano abbattuto Salve te che cazzo vuoi Grazie Mantieni il visore tattico Che cazzo mi serve a me sta roba? Boh Direi che Sparare Come Piano 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 Adesso qua Penso che Una bella granata Sti figli di una puttana Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Mmmmm Ma forse è mio amico, non lo so Vabbè, comunque stiamo in un posto... Un po' desolato eh Che cazzo Oh Aspetta un attimo Tanta fretta di Di star lì a A ucc... Ma che cazzo è che mi spara? Ok, uno Due Ma porca di quella Puttana Oh 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 Via 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 Che cazzo è che mi spara? Ancora la granata Ma ci avrai la mamma Ok, perfetto Qua c'è qualcun altro Che deve... Non c'è un cazzo Ma può salire Che figo Andiamo people Eeeh Pepepe Che cazzo Che cazzo Perchè Perché sento delle urla Guardalo qua Eccolo qua Eccolo qua il bersaglio Ti stacco la gamba Pezzo di merda Aspetta petto Devo caricare Figa Figa ho preso il camion Minchia ho preso il camion Ma non so neanche perché l'ho preso Oh oh Che cazzo Che cazzo Che cosa Ma che cosa Che cosa Che cosa Va bene ragazzi Termino qua questo video di Battlefield 4 Il primo episodio Ho intenzione Di portare su altri episodi Perché voglio provarlo Poi eventualmente Faccio altri Video Su Non so Vanguard Che cazzo ne so io Sto elicottero Di merda Non è che può sparare No Deve volare su di noi Vabbè Comunque ragazzi Se il video vi è piaciuto Vi invito a mettere un like A condividere il video Con tutti i vostri amici Vi ricordo che mi trovate pure Su tiktok Con due nomi War titanic E Se il video vi è piaciuto Un like Condivite il video E iscrivetevi al canale Bella ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti